è stata una partita equilibrata secondo me il gol l'abbiamo preso su un errore nostro e poi da lì comunque è dura perché loro sono una bella squadra e riprenderla non è facile comunque la partita non è stata giocata male da parte nostra anzi contro la prima classifica abbiamo fatto il nostro ci manca qualcosina in fase realizzativa un po più di concretezza un po più di cattiveria comunque abbiamo preso due gol su errori nostri sì sì però comunque non serve adesso mettere a piangere su errori sbagliati gol eccetera toccare in bocca alle maniche tutti quanti e guarda avanti secondo me non siamo inferiori da loro e ci manca ho detto qualcosina sotto l'aspetto forse dell'esperienza comunque siamo una scuola tutta giovane io sono più anziano 88 tutto tutto tutto